Giornata di festa all'Istituto Calvi di Belluno, in mattinata si sono tenuti due particolari momenti per inaugurare altrettante aree della scuola. Dapprima la palestra, che di recente ha subito un corposo intervento di restauro da parte degli operai della provincia, il cantiere affonda le sue radici nel 2018. Un investimento di circa un milione di euro con risorse della provincia di Belluno per l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza, la prevenzione antincendi e anche la commissione pubblico spettacoli, in modo da poter avere una palestra in grado anche di ospitare eventi e manifestazioni con un limite di posti e sedere di 600, che è un numero direi importante. I lavori sono stati presentati dall'ingegnere progettista Gianni Breda e si sono concentrati sulla sicurezza dei locali, ma non solo. Il miglioramento sismico lo potete vedere inquadrando tutte le finestre lato est, dove ci sono stati inseriti quei controventi e assieme a questo tipo di intervento sono stati rinforzati i pilastri. Un altro intervento importante è stata la trasformazione della palestra in locale pubblico spettacolo. È stata realizzata due ulteriori uscite di sicurezza del piano da gioco proprio per permettere questo. Inoltre questa palestra potrà richiedere la certificazione CONI per manifestazioni sportive certificate. Il secondo momento è stata la presentazione della nuova biblioteca dell'Istituto dedicata a un personaggio importante della cultura bellunese, il poeta Francesco Piemonte, il cui messaggio è stato ricordato ai ragazzi dallo studioso Francesco Piero Franchi. Uno spazio culturale che possa costituire quello che abbiamo chiamato anche un terzo spazio dentro alla scuola. Si chiama Piazza Agorà Calvi perché simboleggia proprio un luogo di incontro, di dialogo. Abbiamo voluto dedicarlo al poeta Francesco Piemonte che è stato allievo di questo istituto, del quale la sorella Annalisa ci ha donato una parte della biblioteca che custodiamo appunto qua.